Eh, c'era qualche certezza, ma ce l'hanno messa in crisi. Uno prima regolava il suo orologio settimanale, quando i parrucchieri erano chiusi, lunedì, capitava lunedì e li regolava tutta la sua vita sul lunedì, ma adesso che trovi i negozi di barbie, gli aperti, che di lunedì è un casino. E anche canzoni come questa non si riescono più a fare. E il vantaggio di questo pezzo è che anche chi non sa il milanese riesce a capire una traduzione simultanea. Oh, mamma, mamma, io sono andato a un parrucchiero. Ma era sabato e era pieno di gente. Mamma, 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 allora su, torna in play. Eh, mamma, l'oro si conosce indietro. Mamma, 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 mi sono, 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 oppure perché? Ma mamma non so proprio nanché. E per dimmchia si intrancio al caffè, non posso nemmeno sedermi di caffè ma. Mi sposte la cadrea, e me fa burla e tre, mi sposte a sé, mi sposto che a vedere mamma, oh mamma mamma, mi fura lì, s'arri, mamma voli proprio s'arri, il è che stupido, la risa è parata, mi occhio, è che uno stupido salivare, il avanzatore nudo, il ma frega la foto, la foto dal Pele, il mio è robato la foto del Pele. Il ma frega la foto, la foto dal Pele, il mio è robato la foto, la foto dal Pele, il mio è robato la foto, la foto dal Pele. Il sentiero l'immaginazione la foto, il mio è robato la foto dal Pele, il mio è robato la foto, la foto dal Pele, il mio è robato la foto, la foto dallaона Roranato Granardana. Grazie.